La parola di Dio nel libro dell'Esodo, capitolo 17. Leggeremo due versi, il verso 6 e il verso 7. Esodo, capitolo 17, verso 6, verso 7. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia di Oreb. Questo è Dio che parla a Mosè. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo è l'Eterno in mezzo a noi o no? La versione o no riveduta dice, lo dice in modo ancora più esplice, dice avevano tentato il Signore dicendo il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Grazie per la sua parola, il Signore benedica, potete accomodarvi? Ho appena visto il fratello Franco Messina e si è battezzato martedì scorso. Tua moglie non c'è, vero? Deve lavorare. Non c'è. Grazie a Dio per il fratello Franco Messina e sua moglie che sono stati battezzati nel meraviglioso nome del Signore Gesù Cristo. Fratello alzati all'impiedi così tutti quanti sanno chi sei. Amen. Benvenuto nella famiglia di Dio. Alleluia. 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 Chi era già qua mercoledì ha già saputo mercoledì di questa nuova giunta nella famiglia di Dio. Chi non era qua, vi siete persi il piacere di sentire che qualcun altro è nato di acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. L'avete saputo solo ora. E le belle notizie devono sapere subito. Amen. Alleluia. Amen. Beh, eccoci qua di fronte alle imprese di Mosè. Io non so se lui aveva già i capelli bianchi quando il Signore lo rimandò in Egitto per liberare il popolo d'Egitto. È più che è probabile che avesse i capelli bianchi, però non è detto. Aveva 80 anni. Ma nel caso in cui non non avesse avuto i capelli bianchi vi garantisco che nel giro di qualche mese gli sono diventati bianchi. Nel momento in cui ha cominciato ad avere a che fare con il popolo di Israele, il popolo che Dio voleva liberare, aveva sentito il suo grido, i suoi lamenti per le condizioni di schiavitù in cui si erano venuti a trovare in Egitto. Fin dall'inizio Mosè andò si presentò gli disse che era stato mandato da Dio Dio aveva annunciato il fatto che stava arrivando Mosè ad Aronne Aronne lo andò ad incontrare insieme si presentarono dal faraone si presentarono al popolo a prospettare al popolo quello che era il piano di Dio e appena faraone cominciò a mettere maggiore pressione sul popolo di Israele a causa del fatto che venne a sapere che c'era un tizio che si era messo in testa di voler portare via il popolo di Israele dall'Egitto e il popolo di Israele cominciò a ribellarsi contro Mosè si è venuto qua per liberarci e adesso dobbiamo lavorare di più. la natura umana è sempre stata la stessa vogliamo sempre tutto a costo zero è inutile che noi raccontiamo tutte quante le peripezie che che Mosè ha dovuto affrontare con questo popolo a un certo punto una delle tante lamentere uno dei tanti episodi in cui il popolo comincia a mormorare contro Mosè comincia a mormorare contro Dio è proprio quello che abbiamo letto quando avevano acqua qua si muore di sete Dio ci ha liberati e adesso vuole farci morire qua nel deserto e Dio dice a Mosè quello che noi appunto abbiamo letto ha detto vai nella roccia sulla roccia che è in ore e io starò davanti a te in altre parole c'era quella quella colonna di fumo che di giorno guidava il popolo di Israele che era là visibile agli occhi agli occhi di tutti quanti agli occhi di quelle persone che avevano appena appena finito di brontolare di di lamentarsi di mettere in dubbio il fatto che la presenza di Dio fosse con loro come se quella colonna di fumo era era Mosè che la causava accendendo qualche pneumatico vecchio come se quella colonna di fuoco di notte era Mosè che la causava facendo un grande falò era sotto i loro occhi costantemente 24 ore al giorno di giorno e di notte eppure hanno l'ardire di dire il Signore è in mezzo di noi sì o no onestamente a posto di Mosè non vi sarebbe venuta voglia di ma Dio nonostante le loro lamentele dice ok Mosè vai io starò davanti a te e tu colpirai la roccia con il bastone e verrà fuori dell'acqua dalla roccia e il popolo verrà e Mosè fece così l'acqua uscì dalla roccia e il popolo ebbe abbondante acqua per sé per il loro bestiame chi mai ha visto acqua venire fuori da una roccia so perché qualcuno percuote la roccia con un bastone se vogliamo trovare acqua là dove non c'è acqua abbiamo bisogno di tribelle abbiamo bisogno di scavare dei profondi pozzi abbiamo bisogno di sondare il terreno per vedere se ci sono delle falle acquifere là sotto non si è mai visto nessuno non si è mai sentito che qualcuno prenda un bastone e cominci a percuotere le rocce e dalla roccia viene fuori l'acqua ma quello che per l'uomo è impensabile quello che per l'uomo è una una fantasia da fiaba per Dio è più che possibile perché niente è impossibile con Dio lui è l'onipotente che significa che lui può fare ogni cosa e fa ogni cosa bene e nessun uomo nessuna circostanza sarà mai in grado di far cambiare rotta a Dio di far deviare Dio perché l'ostacolo è troppo grande non c'è ostacolo che possa resistere a Dio lui è in grado di far attraversare un intero popolo gli fai attraversare il mare per l'asciutto lui è in grado di dire al Giordano così come ha fatto Giordano fermati e le acque cominciano ad alzarsi con un alto muro fa passare il suo popolo e poi dice ok adesso puoi passare se vuoi e la natura dà sempre la precedenza alla voce del suo creatore perché quando sente la voce del suo creatore così come abbiamo detto qualche servizio fa la natura si mette sull'attendia e dice Signor sì come tu hai detto io farò alleluia la Bibbia dice che i cieli raccontano la gloria di un grande e potente Signore i cieli raccontano la gloria del grande e potente Signore dell'unico potente Signore del solo e grande Dio ma non è stata l'unica volta che Israele pensava che sarebbe morto di sete è un'altra occasione le circostanze sono così simili appunto che ci sono dei cosiddetti teologi che pensano che sia lo stesso episodio riferito in due modi diversi ma non è lo stesso episodio sono o meglio è lo stesso episodio nel senso che si ripete la stessa cosa ma in tempi diversi in un'altra occasione il popolo si lamenta non c'è acqua non c'è acqua per loro non c'è acqua per per il bestiame e Dio dice a Mosè leggiamo nei numeri capitolo 20 prendi il bastone tu e tuo fratello Arone Arone convocate la comunità e parlate e parlate a quella roccia in loro presenza ed essa darà la sua acqua tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame la prima volta Dio dice percuoti la roccia con il tuo bastone in questa circostanza dice andate tu e Arone e parlate a quella roccia in presenza del popolo degli anziani del popolo e la roccia dalla roccia sgorgerà dell'acqua e sarà e sarà sufficienza per tutte le persone e anche per il loro bestiano e la Bibbia dice che Mosè prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore gli aveva comandato che quel bastone era il segno dell'autorità Mosè e Arone convocarono l'assemblea di fronte alla roccia e Mosè disse loro ora ascoltate o ribelli ricordate poco fa che ho detto se non aveva i capelli bianchi gli sono diventati bianchi Mosè qua comincia a dare segni di intolleranza Mosè qua comincia a dare segni di di voler di voler mangiare il cranio di qualcuno non dimenticate era un uomo l'uomo più mansueto ma sembra che a questo punto abbia i nervi a fior di pelle ascoltate o ribelli faremo uscire per voi acqua da questa roccia un po' più avanti nella scrittura nel salmo 106 dice che lo riferisco in mie parole il popolo provocò Mosè presso le acque di Meribah e ne venne del male a Mosè per causa loro perché inaspirano il suo spirito ed egli parlò senza riflettere un'altra versione dice che fu inasprito nello spirito e parlò stoltamente parlò in modo tale da da metterci in difficoltà nel riconoscere Mosè in queste parole ma era era giunto alla fine della sua tolleranza faremo uscire per voi acqua da questa roccia e Mosè alzò la mano Dio aveva detto parlate alla roccia ma Mosè forse forte dell'esperienza precedente alzò la mano e percosse la roccia con il suo bastone due volte Dio non non lo mollò non non gli disse ok visto che hai voluto fare a modo tuo adesso te la sbrighi tu Dio in ogni caso fece uscire acqua in abbondanza da quella roccia e la comunità e il bestiame bevero ma subito dopo leggiamo che il Signore disse a Mosè da Aronne siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele voi non condurrete quest'assemblea nel paese che io le do con queste ultime parole con queste ultime parole si potrebbe predicare un sermone di due o tre ore ma non non sgomentate prima di mezzanotte andremo a casa tranquilli ma quello quello che Dio qua sta dicendo a Mosè ed Aronne è avete voluto apportare una modifica agli ordini che avete ricevuto io non vi ho svergognato o almeno in apparenza non vi ho svergognato vi ho dato il risultato per cui voi avete parlato ma a causa della vostra disubbidienza a causa del fatto che avete agito stoltamente a causa del fatto che non avete avuto fiducia in me e non avete dato gloria al mio santo nome voi non entrerete nella terra promessa e non stiamo parlando visto che hai fatto il monello non ti compro il gelato l'aspirazione di Mosè il sogno di Mosè la visione di Mosè i suoi i suoi 80 anni vissuti i primi 40 anni nel deserto come conseguenza del fatto che lui aveva creduto che il popolo avrebbe capito che il signore voleva usarsi di lui per liberarlo quando quando uccise l'egiziano per difendere un giudeo la Bibbia poi il nuovo testamento dice che lui lo ha fatto perché pensava che il popolo capisse che Dio voleva usarsi di lui per liberarli a causa di quell'omicidio poi fu costretto a scappare via e a stare 40 anni nell'isolamento del deserto a fare il pastore di pecore lui che aveva le credenziali le carte in regola per poter diventare l'erede al trono del faraone perché era conosciuto come il figlio della figlia del faraone quando questa indicazione ci fa pensare che quella figlia fosse l'unica erede del faraone ed essendoci un erede acquisito il figlio della figlia del faraone gli storici e i teologi dicono che Mosè aveva le carte in regola per diventare il successore di faraone eppure si ritrova a dover pasturare le pecore di suo suocero le pecore del papà della donna che lui sposò per 40 anni nel deserto nella solitudine c'è chi pensa che Mosè fosse balbuziente e può darsi che dopo 40 anni nel deserto lo sia diventato a furia di non parlare può anche darsi che è raggiunto al punto di avere difficoltà a dire due parole dopo l'altra ma la Bibbia dice che Mosè era potente nel suo dire e nel suo fare e questa per me è una chiara indicazione che quando Mosè parlava quando il giovane Mosè in Egitto parlava le sue parole avevano un eco avevano un rimbombo arrivavano alle orecchie delle persone con l'autorità che lui aveva era potente nel suo dire e nel suo fare ma dopo 40 anni di isolamento è più che probabile dopo 40 anni che le uniche persone con cui parlate raramente probabilmente vedeva la moglie e il suo ocio ma quando le uniche creature con cui parlate sono delle pecore prima o poi finirete con dire beh chi pratica con lo zoppo l'anno zuppia chi pratica con lo zoppo dopo un anno comincia a zoppicare pure lui scusate la traduzione e poi dopo quando in quel speciale giorno della sua vita il suo sguardo fu attirato da un pruno che bruciava e non si consumava questo non era uno scenario nuovo per Mosè ancora oggi è un dolore di fatto succede che ci siano nel deserto un certo tipo di cespugli che vanno in fiamme ma è solo questione di qualche secondo cenere e Mosè chissà quanti ne avevano visti di quelle fiamme o di quei piccoli falò spontanei ormai c'era abituato ma ne vede uno che è totalmente diverso bruciava cinque minuti fa continua a bruciare ora e sembra essere intatto e usci fur di via per andare a vedere perché il pruno bruciava e non si consumava e quando si avvicinò sentì una voce che probabilmente sicuramente non ebbe difficoltà a riconoscere perché fin dai primi mesi della sua vita quando fu nascosto e quando poi fu riportato alla sua vera mamma per fargli da balia perché la figlia del faraone voleva qualcuno che allattasse quel bambino che il Nilo gli aveva donato e fin dai primi mesi fin dai primi giorni della sua vita quando le braccia affettuose della madre lo dondolavano quando quando gli dava da mangiare probabilmente nonostante noi ci ritroviamo queste parole qualche tempo dopo ma quelli quelli erano giudei che credevano in Dio Mosè sicuramente non ha inventato nulla quando quando dice le parole ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore e man mano che cresceva la mamma che diceva Mosè ricorda c'è un solo Dio c'è un solo Signore in Egitto ci sono molte divinità ma sono tutte invenzioni umane sono statue che hanno occhi e non vedono hanno bocca e non parlano hanno naso non odorano hanno orecchie e non sentono hanno mani e non toccano hanno piedi e non camminano e simili a loro sono quelli che si fidano di loro e che le costruiscono che le fanno Mosè quelli non sono Dio Dio è spirito Dio è potente c'è un solo Dio ed era stato istruito con queste cose infatti qualcuno ha detto quello che la mamma fu in grado di insegnare a Mosè in circa sette anni l'Egitto non fu in grado di cancellare in trentatré anni mamme papà insegnate ai vostri figli la via che devono seguire come devono vivere per Dio come devono comportarsi nella cara del Signore come devono vestirsi e quello che voi insegnerete ai vostri figli nella loro infanzia il mondo non sarà in grado di cancellarlo il vostro bambino può avere qualche mese di vita non farà non farà alcun male se se all'orecchio o parlando con il vostro bimbo gli dite ascolta bimbo mio c'è un solo Dio ed il suo nome è Gesù ascolta bimbo mio non c'è alcun altro Dio all'infuori dell'onnipotente quelle parole formeranno in quel bambino e in quella bambina o lasceranno un'impronta indelebile che non può essere cancellata non potrà mai essere cancellata alleluia eppure quel Mosè che fu disposto a rinunciare al trono ipoteticamente al trono d'Egitto a diventare il prossimo faraone d'Egitto e lo dice lui scelse le sofferenze di Cristo piuttosto che godere per un tempo della ricchezza del mondo dopo circa 80 anni e spingi oggi e spingi domani lui che parlava con Dio a faccia a faccia Dio stesso l'aveva detto a Mosè e a Arone ha detto io parlo con i profeti in sogni e in visione ma con il mio servitore Mosè io parlo con lui faccia a faccia quando Mosè incontrò Dio sul monte quando Dio gli fece vedere la sua gloria la Bibbia dice che lo vide di spalle non è che quello per dire ha visto soltanto la gloria che un uomo era in grado di poter vedere di Dio perché la Bibbia dice nessuno può vedere Dio e vivere quando ritornò giù il popolo non poteva neanche guardarlo in faccia si abbagliava lui fu costretto ad usare un velo per consentire al popolo di poter parlare con lui aveva avuto un'esperienza così gloriosa con Dio eppure spingi oggi spingi domani una lamentela dopo l'altro un mormorio dopo l'altro una contesa dopo l'altro in diverse occasioni Mosè si è trovato a dover a dover lo so che non è il linguaggio esattamente appropriato a dover fare abbraccio di ferro con Dio quando Dio dice togliti di mezzo e io cancellerò questo popolo di collo duro e darò a te una generazione che non potrà neanche essere annoverata e Mosè dice o io con loro oppure né io né loro se cancelli loro cancella me dal tuo libro cancella pure me in qualche altra occasione si ritrova a parlare con Dio e Dio questo tuo popolo e Dio dice no 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 è il tuo popolo ricordo il commento della della fratello Cewe quando ha detto quando un popolo si trova nella condizione di non essere voluto né da Dio né dall'uomo di Dio si trova in brutte acque è il tuo popolo e Dio dice no no è il tuo 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 è stato disposto ad avere delle conversazioni tra virgolette accese con Dio per prendere le parti le difese di quel popolo che pure gli aveva fatto vedere tutti i colori gli aveva fatto diventare i capelli bianchi ma arrivò così come dicono gli americani alla fine della fune non aveva era arrivato alla condizione in cui il suo livello di tolleranza era praticamente esaurito quello che successe a Mosè a mio avviso è il titolo che ho voluto dare a questo sermone quando il problema diventa il tuo problema allora è un problema lo ripeto quando il problema diventa il tuo problema allora è un problema e sapete qual è stato il problema di Mosè che è il problema che il popolo stava vivendo e causando il brontolio il lamento del popolo Mosè che ne aveva visto di cotte e di crude lo ha fatto diventare il suo problema e nel momento in cui è diventato il suo problema è diventato un problema gli ha fatto perdere le staffe perché lascia che ti dica quando quando il problema diventa il tuo problema occupa in modo arrogante i tuoi pensieri la tua mente è continuamente in moto per e gira e gira intorno a quel problema pensa in relazione al problema pensa come conseguenza del problema vorrebbe trovare una soluzione al problema ma il problema è più grande di lui perché non era neanche il suo problema è lui che l'ha fatto diventare il suo problema e la sua mente è là a frullare intorno ad un problema quando quando hanno inventato la 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 pubblicità il mondo gira intorno a te hanno pensato al problema che si ficca nel nel cervello di una persona potrebbe essere un desiderio un desiderio sbagliato che si ficca nella mente delle persone e tutto tutto comincia ad essere conseguenza di quel problema si agisce in relazione a quel problema si pensa in relazione a quel problema si parla in relazione a quel problema e quando questo avviene quando il problema occupa i tuoi pensieri comincia a derubarti del tuo sonno comincia a derubarti della tua serenità della tua pace vai a letto portandoti dietro il tuo problema e il tuo problema farà del suo meglio per tenerti sveglio e se mai riuscirai a svegliarti ad addormentarti quando ti svegli e là accanto a te per dirti sono ancora qua e per e per darti un brutto quarto d'ore cerchi ti giri ti rigiri nel tuo letto cerchi di ignorare quel quel problema ma tu lo hai fatto tuo hai fatto del tuo problema che non era il tuo problema ma lo hai fatto diventare il tuo problema il tuo compagno 24 ore al giorno e quando tutto ciò per cui tu vivi è il problema quando tutto ciò per cui tu pensi è il problema quando tutto ciò di cui parli è il tuo problema non c'è posto per il tuo migliore amico o la tua migliore amica non c'è posto per Dio e se mai c'è un posticcino per Dio sarà di importanza relativa se non addirittura insignificante perché tutto ciò che troneggia sul trono del tuo cuore è il problema se sei un catanese forse lo chiamerai problema ma è la stessa cosa ti ha praticamente reso schiavo ti sta signoreggiando e i tuoi pensieri perdono totalmente il punto di riferimento da cui tu dovresti dipendere e nonostante un Mosè che ha sperimentato quello che ha sperimentato con il bastone ha fatto un cenno verso il Mar Rosso e quel mare si apre ed in mezzo si crea una strada asciutta con il bastone lo puntavo verso il cielo e poi si puntavano insetti dappertutto puntavo verso il Nilo e tutte le acque sono diventate sangue lo buttava per terra e diventava un serpente e quando gli stregoni di Egitto fessero la stessa cosa allora il serpente o il bastone di Mosè mangiò tutti quanti i serpenti degli egizi il fratello Cangini ha predicato un sermone molto molto umoristico direi intorno a questa parte della vita di Mosè ma ha avuto il suo impatto ha avuto il suo effetto eppure nonostante tutte queste gloriose esperienze nonostante lui avesse parlato con Dio a faccia a faccia quando Dio gli dice vai e lui Mosè dice non io signore mando un altro io non sono buono a parlare io non so fare questo io non so fare quell'altro e fu così insistente che alla fine Dio gli disse ok ti darò qualcuno che parlerà al posto tuo che parlerà per te tuo fratello Aaron sarà la tua bocca tu sarai come Dio e lui sarà la tua voce sarà la tua bocca ma poi Dio gli dice cosa hai in mano e lui ha detto un bastone cosa vuoi che abbia sono un pastore di pecore da 40 anni e tu dovresti saperlo meglio di me ok buttalo per terra quell'insignificante bastone e io ti farò vedere cosa sono in grado con tutto ciò che tu sarai disposto a mettere nelle mie mani e quel bastone divenne un serpente poi Dio gli disse metti la tua mano dentro il tuo il tuo seno lui la mise dentro tirala fuori ed era coperta di lebra Bosè probabilmente cercò di fuggire dalla sua mano lebrosa ma poi Dio gli disse non cercare di scappare è impossibile lasciare la tua mano rimettela nel tuo nel tuo seno rimettela sotto sotto il tuo il tuo mantello e quella mano che gli faceva orrore la rimisse sotto il suo mantello e quando la tirò fuori era di nuovo normale Dio gli stava dicendo le situazioni più orrende le cose più sgradevoli quello che tu non vorresti neanche vedere se le metti nelle mie mani se hai fiducia in me io posso trasformare ogni cosa io posso cambiare il corso della vita io posso tirarti fuori dalle tue circostanze io posso cambiare il tuo modo di pensare se tu hai fiducia in me eppure e dai oggi e spingi oggi e spingi domani Mosè era pronto per una un ricovero in clinica per farsi la cinquantina di fleb chiedere di essere in una stanza isolata di non voler vedere neanche gli infermieri o le infermieri e il popolo è là di nuovo siamo senza acqua e Dio in mezzo di noi sì o no ci ha portati qua per farci morire oggi raccontavo a Carmelo mentre aspettavamo il traghetto per andare a Reggio Calabria non so com'è che è nato il discorso raccontavo un'esperienza che mio fratello Giuseppe anni fa ha avuto lavorava per una ditta che mandava in Somalia quei grandi containers pieni di materiali elettrici casette prefabbicate prefabbicate e tante cose del genere lui caricava il camion poi andava a Napoli dove partiva la nave e c'erano gli operai del luogo che travasavano la merce del camion nei vari containers per poi spedirli in Somalia li mettevano sulla nave e li portavano in Somalia e un giorno lui era là ad assicurarsi che tutto ciò che c'era nel camion andasse a finire dentro i containers perché a volte nel tragitto dal camion al container c'è merce che si disperde e mentre lui era là a un certo punto tutti quanti in perfetta sintonia erano stati sei sette operai non lo so otto quelli che erano istantaneamente come se erano tutti sincronizzati si sono fermati e hanno cominciato a fare una specie di cantilena volemo lo caffè volemo lo caffè e mio fratello ha detto ok andiamo a prendere il caffè andarono a prendere il caffè sono tornati felici e contenti e hanno ricominciato a lavorare ma loro hanno fatto solo una richiesta non il popolo di Israele dopo che erano scampate da piaghe per mezzo del quale gli egizi erano morti dopo che avevano attraversato un mare in cui gli egizi morirono soffocati dopo che sicuramente a questo punto probabilmente potrei anche sbagliarmi nella cronologia avevano avevano mangiato già carne per cui non erano dovute andare a caccia la mia domanda è sempre stata perché quelle persone si lamentavano di non avere carne quando avevano bestiame potevano ammazzare una pecora e mangiarla no la mia pecora non si tocca ma vogliamo che Dio ci dia la carne se no perché ci ha portati qua nonostante tutto ciò che avevano sperimentato nonostante avevano già bevuto dall'acqua che usciva dalla roccia e nel Nuovo Testamento leggiamo che quella roccia seguiva il popolo e quella roccia era Cristo simbolicamente profeticamente perché Gesù è la fonte dell'acqua viva alleluia nonostante avessero già bevuto nonostante tu hai già sperimentato Dio magari hai già ricevuto lo Spirito Santo e forse Dio ha fatto più di un miracolo nella tua vita eppure è probabile che stasera e forse anche da tempo ti ritrovi là a lamentare il fatto che Dio non ha provveduto o non sta provvedendo e sai qual è il problema? che il problema è diventato il tuo problema e quindi è un problema siamo senza acqua e Mosè mezzo esaurito per così come era a quel punto senza voler essere senza voler usare un senso senso derogatorio non è poter più prese quel problema che nello specifico si chiamava Israele e corse l'opportunità per sbattere loro in faccia quello che loro erano ha voluto ha voluto dire volete sapere una cosa sono 40 anni che i valimentati di me sono 40 anni che in un modo nell'altro dite che non non mi gradite beh neanche neanche voi mi siete graditi questo è quello che in effetti ha detto Mosè a Israele si è voluto togliere quel sassolino dalla scarpa e oggi e domani prima o poi prima o poi ecco quel giorno prese quel problema fino a quel momento li avevo sempre portati a Dio e anche questa volta lo portò a Dio ma se era come dire procurati i diritti d'autore sul problema aveva fatto quel problema il suo problema e quindi è un problema e quando Dio gli dice ok tu e da Aronne andate alla roccia Mosè prendi il bastone ma stai attendo devi prendere il bastone vai alla roccia ma devi parlare alla roccia non devi fare come la volta scorsa che gli ho detto di percuotere la roccia simbolicamente la prima circostanza in modo profetico rappresentava il Messia che sarebbe stato offerto per i nostri peccati sarebbe stato percosso per i nostri peccati per le nostre malattie nella seconda circostanza Dio aveva dovuto parlare a quella roccia perché doveva essere simbolico rappresentativo profetico del ritorno del Signore per venire a prendere la sua chiesa non per essere percosso ma per essere re dei re e signore dei signori e Mosè nel fare proprio quel problema ha per così dire interferito nel progetto profetico di Dio non ha cambiato l'esito finale perché alla fine Dio è sovrano ma è come se lui abbia voluto dire Signore no questo pezzo della storia è meglio cambiarlo lo abbiamo abbiamo percosso la roccia la prima volta è meglio che facciamo quello che abbiamo sempre fatto agiamo secondo i precedenti secondo quello che abbiamo fatto e a volte noi cristiani siamo portati a vivere in questo modo lo facciamo perché l'abbiamo fatto ieri ma se Dio oggi ti dice di fare altrimenti perché non lasciare che sia Dio a decidere quello che tu devi fare perché non permettere che sia Dio a prendere in mano il problema piuttosto che tu lo fai tuo e quindi hai la prerogativa di gestirlo a modo tuo non pensi che Dio possa gestire il problema meglio di tutti quanti noi messi assieme non pensi che Dio possa dare una soluzione a qualcosa che sembra irrisolvibile piuttosto che perdere il nostro sonno perdere la nostra tranquillità diventare come la corda di una chitarra e guai a chi ci dice una cosa che siamo pronti ad esplodere e tutti quanti noi abbiamo sperimentato questo e poi ci va di mezzo nostra figlia o nostra moglie o nostro marito o nostra madre poverini loro non ci colpono assolutamente niente il problema è che noi abbiamo preso il problema lo abbiamo fatto diventare nostro e di conseguenza adesso siamo in compagnia del problema e la Bibbia dice non vi ingannate chi pratica cattive compagnie acquisisce cattive abitudini le cattive compagnie causano cattivi costumi cattivi modi di essere cattivi modi di fare e Mosè che aveva sempre obbedito Dio aveva sempre preso Dio in parola lui aveva la libertà di andare a presentarsi sotto la nuvola e Dio gli parlava faccia a faccia è come se avesse detto ok Dio è giunto il giorno oggi proprio devo farlo mettiti da parte adesso questo è il mio problema e guarda quel popolo dice ascoltate o ribelli faremo uscire per voi acqua da questa roccia è come se in quello stato mentale Mosè ed Aaron volessero appropriarsi del merito di quello che sarebbe stato l'esito e questo diventa ancora più evidente quando Mosè alza la mano con il suo bastone e percuote la roccia per due volte l'acqua l'acqua sgorga dalla roccia mentre ancora il popolo è là a bere il bestiame è là a bere mentre sente il rumore di quella enorme quantità di acqua che esce perché sicuramente non era un rubinetto di quelli che abbiamo in nostra cucina non dimenticate ci sono centinaia di migliaia di persone che devono bere c'è bestiame ci sono greggi ci sono sicuramente cammelli forse anche degli asini sicuramente non era un rubinetto sicuramente c'era un'acqua che usciva con un certo impeto e causava un certo fragore mentre c'è il chiacchierizzo del popolo mentre c'è il rumore dell'acqua Dio parla a Mosè e a Aaron e dice non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome sapete oggi ci sono molti che con tutta la loro religiosità stanno andando verso la perdizione perché non hanno fiducia in Dio e non danno gloria al suo santo nome perché pensano che ci sia un'alternativa a quello che Dio vuole e quindi piuttosto che battezzare o predicare Gesù Dio manifestato in carne o battezzare nel nome di Gesù hanno adottato un'alternativa che è frutto dell'invenzione umana e quando battezzano battezzano usando dei titoli che sono biblici ma che non corrispondono esattamente al volere di Dio per la remissione dei peccati degli uomini non si dà gloria al suo santo nome non si ha fiducia in Dio e Dio dice siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele voi non entrerete nel paese o nella terra promessa e tutto questo perché Mosè così come abbiamo già detto prima parlò stoltamente si inasprì nel suo spirito prese il problema lo fece diventare il suo problema fino allora aveva preso il problema per mano e diceva Dio eccolo qua sono affari tuoi fai quello che tu vuoi ma questo giorno prese il problema lo adottò come suo problema e lui stesso divenne parte del problema con l'esito finale che perse la fiducia in Dio perse l'opportunità di dare gloria al santo nome del Signore e perse l'opportunità di entrare nella terra promessa perché far diventare il problema il tuo problema c'è qualcuno di voi che non vive per Dio perché il suo problema è o il tuo problema è e tu pensi che Dio ti abbia abbandonato il fratello non ti ama la Chiesa non fa abbastanza per te ma non è questione di quello che Dio o gli altri fanno per te è una questione di quello che sia la tua attitudine non molto tempo fa ho sentito il nostro predicatore credo che era un nostro predicatore in ogni caso era un eccellente sermone ho sentito che parlava di Anna e suo marito Anna la mamma di Samuele la moglie di Elcana e Elcana va da sua moglie Anna e le dice Anna perché sei così triste perché sei così abbattuta perché non mangi forse io non sono meglio di dieci figli perché l'angoscia di Anna era quella che lei non aveva figli e voleva così tanto avere dei figli ed Elcana le dice forse io non sono più di dieci figli in altre parole il povero Elcana sta dicendo ad Anna ovviamente tutto quello che io faccio per te che ho fatto per te che continuo a fare per te per te non vale nulla per te non fa nulla e così come quello che gli altri possono fare per noi ha un valore relativo e insignificante allo stesso modo l'unica cosa che riesce veramente a cambiare la tua circostanza è avere fiducia in Dio e allora la Bibbia dice che Anna ha preso un po' di cibo e poi salì alla casa del Signore per dire Elcana non è questione di quello che tu fai andò a Dio e conciò a pregare così intensamente appunto che Eli che era seduto la non molto lontano vede questa donna che pensa che sia ubriaca che vede soltanto le sue labbra muoversi nessun suono che esce dalla sua bocca e la riprende per dire vai a scaricare la tua sbornia altrove e lei dice oh no signor io non sono ubriaca come tu pensi e dice dice qual è l'angoscia del suo cuore ed Eli con tutta la sua insensibilità dice l'anno prossimo di questi tempi tu avrai in braccio bambini non è questione di quello che gli altri fanno è solo questione di lasciare che Dio si prenda cura del problema perché se tu fai diventare il problema il tuo problema allora è un problema e sei in brutte acque e corri il rischio di perdere quello che hai e quello che potresti avere Dio per la prima volta in tutta la vita di Mosè gli dice tu non hai avuto fiducia in me tu non hai dato gloria al mio santo nome davanti alla raunanza del popolo di Israele e di conseguenza tu non entrerai nella terra promessa lo ha fatto salire su un alto monte e gli ha fatto vedere il paese da lontano e dice ecco questo è il paese ma tu non ti entrerai perché perché l'uomo più mansueto che era mai vissuto fece diventare il problema il suo problema e si ritrovò immerso fin sul capo in quel problema non fu in grado di gestirlo da sera Dio sta parlando a qualcuno di voi che da troppo tempo è mano in mano con il problema da troppo tempo va a dormire con il problema ha la sua mente occupata dal problema ha il suo cuore occupato dal problema le sue azioni sono in relazione sempre al problema parla sempre del problema vive sempre il problema e la conseguenza è che lui stesso sta diventando sempre più simile al problema dicono che dopo un certo numero di anni una persona che ha un cane il padrone e il cane cominceranno ad assomigliarsi io non lo so se è vero se questo parla di somiglianza fisica o di che si viene a creare ma a volte si vedono dei padroni e dei cani che se li mettete l'una accanto all'altro sembrano uguali se vai troppo per troppo tempo mano in mano con il problema tu e il problema diventerete una stessa cosa Dio riceve sempre meno gloria dalla tua vita e il tuo problema ti signoreggia sempre di più perché quando il problema diventa il tuo problema allora è un problema Mosè chi te l'ha fatto fare non ha perso la salvezza ma dopo 80 anni tra deserto e e poi di nuovo deserto prima era in giro con le pecore e probabilmente quando era in giro invece con il popolo di Israele chissà quante volte si svegliava sognando di essere nel deserto con le pecore quando si svegliava e sentiva magari qualcuno nell'accampamento che parlavo diceva era meglio quando ero con le pecore dovevo solo guidarle ma queste persone mi stanno logorando la vita il problema divenne il suo problema e quindi è stato un problema non ha dato non ha avuto fiducia in Dio non ha dato gloria al nome di Dio agli occhi dei figli di Israele che si è voluto togliere quel sassolino dalla scarpa o quello che aveva conservato qua dentro lo ha tirato fuori la sua soddisfazione finale che soddisfazione pare che a un certo punto Mosè comincia a insistere con Dio Signore ti prego fammi entrare nella terra promessa ti prego è il sogno della mia vita è quello per cui ho vissuto è quello per cui ho vissuto questi ultimi quarant'anni e a un certo punto Dio gli ha detto Mosè smettila di parlarmene parentesi chiusa non entrerai stasera tu hai l'opportunità di dare gloria a Dio a dispetto del problema della circostanza della difficoltà in cui ti trova a dispetto della sofferenza a dispetto delle condizioni finanziarie a meno che non decida di far diventare il problema il tuo problema il salmista che dice sono stato giovane adesso sono diventato vecchio e non ho mai visto il giusto morire di fame nella sua progenie dovere lemosinare per il pane sta dicendo il Dio che noi serviamo è un Dio che provvede sapete ci sono due aspetti del sacrificio di Gesù Cristo Gesù non è morto sulla croce per la nostra guarigione no 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 lui sulla morte è morto per i nostri peccati sono le cose che gli hanno fatto i soldati romani quando Pilato lo ha fatto frustrare frustrare ha fatto lacerare la sua schiena il sangue che gli colava quella corona di spine che gli è stata pressata sul capo quegli schiaffi e quegli sputi sono per quelle cose quando la Bibbia dice per le sue lividure siamo stati sanati prima ancora di morire per i nostri peccati lui è stato è stato esposto all'insulto alla sofferenza affinché noi potessimo andare a lui con i nostri problemi fisici con i nostri problemi mentali con le nostre difficoltà ma dobbiamo avere fiducia in lui tu devi avere fiducia in lui anche se quello che ti è successo non era esattamente quello che tu volevi Mosè non voleva scappare nel deserto lui pensava ammazzo questo egizio e tutti i giudei penseranno che io sono la persona che li aiuterò e che sarò in grado di aiutarli e mi rispetteranno invece no sono rivoltati contro di lui e chissà quante volte per quei 40 anni quei primi 40 anni nel deserto Mosè non abbia non abbia guardato indietro e abbia detto signore eppure io volevo far bene eppure credevo che tu avresti fatto andare le cose in un mondo diverso chissà quante volte è andato a letto amareggiato chissà quante volte si è alzato la mattina perplesso perché a causa di un gesto di generosità si è ritrovato a dover dover andare dalle stelle alle stalle dalla corte del faraone a dormire nel deserto sotto una tenda se andava bene fatta di pelle di pecore o di montone chissà quante volte è tempo che cancelli il tuo passato e dai fiducia in Dio nell'avere fiducia in Dio tu darai gloria al suo santo nome agli occhi degli altri e Dio ti farà superare la soglia della tua difficoltà ma se tu persisti nel far diventare il problema la difficoltà la circostanza in cui ti trovi il tuo problema la tua difficoltà allora continuerai a vivere il problema con il pericolo di perdere l'opportunità di arrivare a destinazione so che a qualcuno potrebbe non essere piaciuto quello che ha sentito ma Dio stasera ti sta dicendo se la smetti di voler trovare la tua soluzione e metti tutto nelle mie mani io ho la soluzione vediamo alzarci all'impiede quando il problema diventa il tuo problema è un problema e il problema ti spinge ad isolarti provoca in te il desiderio di vendicarti provoca in te il desiderio di toglierti quel sassolino dalla scarpa e se è quello che vuoi prima o poi sarai in grado di farlo ma valuta bene il costo se solo Mosè avesse avuto il minimo sospetto che ciò gli sarebbe costato quello che gli è costato sono più che certo che avrebbe corretto in anticipo le sue intenzioni lo avrebbe fatto qualcuno dice ma lui non lo sapeva ma noi lo sappiamo questo è il bello di avere la parola di Dio conosciamo l'inizio della storia e conosciamo la fine della storia e se andiamo l'ultimo libro della Bibbia alla fine i santi saranno trionfanti nel cielo conosciamo l'inizio e conosciamo la fine conosciamo la l'irritazione di Mosè conosciamo l'azione che ne scaturì e conosciamo la conseguenza che ne nacque perché ripercorrere gli stessi passi che lui ha percorso perché decide di fare quello che lui ha fatto ha fatto diventare il problema il suo problema e di conseguenza si ritrovò nel pieno del problema Gesù stasera ti dice sei stanco sei travagliato sei sgomento sei scoraggiato sei confuso vieni a me ed io ti darò riposo io ti darò pace pace quando Gesù entrò a porte chiuse dove c'erano i discepoli barricati perché avevano paura di quello che i leader religiosi avrebbero voluto fare loro Gesù quando entrò a porte chiuse la prima cosa che disse pace a voi io vi do la mia pace la mia pace non è come quella che il mondo dà la mia pace non dipende dalle circostanze la mia pace inizia dall'interno la mia pace inizia dal vostro cuore la mia pace invade la vostra vita per poi traboccare qualunque sia la tua circostanza stasera qualunque sia il tuo problema perché non avere fiducia in Dio perché non portarlo a Dio io non voglio che Dio un giorno mi rimproveri dicendomi non hai avuto fiducia in me non hai glorificato il mio santo nome agli occhi delle persone no 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 fratello sorella abbi fiducia in Dio non accaparrarti i diritti del problema ma piuttosto lascialo nelle mani di Dio stasera da troppo tempo ci convivi da troppo tempo vivi in relazione a quel problema in relazione a quella delusione in relazione a quella a quella ferita in relazione a quell'offesa da troppo tempo ci convivi e se continui corri il rischio di non arrivare a destinazione ed è volontà di Dio che nessuno perisca ma che tutti vengono a ravvedimento l'altare è aperto grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.